Giorgia Meloni ha accusato Roberto Saviano di sciacallaggio disgustoso e per questo ha deciso di querelarlo. Non sono disposta a tollerare oltre, ho già dato mandato per procedere legalmente, ha svelato la leader di Fratelli d'Italia dopo essere stata pesantemente insultata insieme a Matteo Salvini nel corso di Piazza Polita, la trasmissione condotta sulla 7 da Corrado Formigli, il quale ha ospitato Saviano, che sull'immigrazione ha ovviamente sparato a zero sui due leader del centrodestra, vedendo queste immagini, morti in mare, NDR, vi sarà tornato alla mente tutto il cerpame dei taxi del mare, delle crociere, tutte quelle parole spese su questa disperazione. Viene solo da dire basta asterisco 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 i, come avete potuto. Meloni, Salvini, basta asterisco 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 i. La replica di Giorgia è arrivata nella mattinata di venerdì 4 dicembre, sono stufa di assistere a questo disgustoso sciacallaggio da parte di Saviano. Per voi è normale che a questo odiatore seriale sia consentito di famare, senza contraddittorio, chi non è in studio. Di conseguenza la leader di FDI ha deciso di passare al contrattacco con una querela.